In questo nuovo capitolo parleremo della rivoluzione industriale avvenuta tra la metà e la fine del Settecento in Inghilterra. Prima di parlare della vera e propria rivoluzione industriale andiamo a vedere qual era la situazione sia dal punto di vista della demografia che dell'agricoltura. Partiamo con quella che viene definita rivoluzione demografica. Infatti in Europa fra il 1300 e il 1600 la popolazione europea era rimasta sostanzialmente in equilibrio, invariata. A partire dal Settecento invece la popolazione comincia a crescere in modo rapido e costante per cui dai 100-110 milioni del 1700 grazie alle migliori condizioni igieniche alla fine delle grandi epidemie e al miglioramento dell'agricoltura c'è un incremento demografico costante fin quasi a raddoppiarsi nel 1800, ad arrivare all'incirca a 200 milioni di abitanti. Alla base di questa crescita ci sono diversi fattori, diminuiscono le epidemie, migliorano le condizioni igieniche sanitarie, arrivano nuove coltivazioni dal nuovo mondo come il mais alla patata che permettono anche ai poveri di avere un nutrimento a basso costo. Ma parallelamente alla rivoluzione demografica c'è anche la rivoluzione agricola perché l'aumento demografico comportava la necessità di maggiori derrate alimentari, di maggiore nutrimento. Ecco che viene aumentata la produttività dei terreni, dal ciclo triennale inaugurato nel basso medioevo si passa al ciclo continuo. Inoltre i proprietari terrieri recintano quelli che in Inghilterra hanno chiamati open field, cioè campi aperti utilizzati per il pascolo e null'altro, vengono recintati e coltivati. Per cui i proprietari terrieri reinvestono i loro redditi in aziende agricole e in imprese manifatturiere. Molti contadini, molti piccoli proprietari che non potevano reggere la concorrenza di questi grandi proprietari terrieri si spostano nelle città e vanno a lavorare proprio nelle nuove manifatture, nelle fabbriche. Come è stata possibile la rivoluzione industriale? Grazie a questo aggeggio, grazie a questo apparecchio, e cioè il motore a vapore, la macchina a vapore messa a punto dallo scozzese James Watt nel 1769. Come funziona la macchina a vapore di James Watt? C'è una caldaia all'interno della quale c'è dell'acqua che viene scaldata, quest'acqua produce del vapore ad alta pressione, che proprio in virtù di questa pressione muove un pistone che fa girare degli ingranaggi e si genera movimento, energia cinetica. Le prime macchine a vapore vennero impiegate per azionare le pompe che servivano a prosciugare i pozzi delle miniere di carbone. Quindi si pensò di adattare poi la macchina a vapore all'industria tessile, perché oltre che di cibo la gente che era cresciuta in numero aveva bisogno di vestiti. La macchina a vapore garantiva una forza motrice più potente, più costante di quella umana o di quella idraulica, che fino ad allora si era applicata. Infine la macchina a vapore venne usata per i trasporti, prima per i battelli a vapore e poi per le locomotive. La diffusione di queste nuove macchine potenziò i settori estrattivi, carbone, ferro e siderurgico, metallo per produrre le nuove macchine. Infatti con lo sviluppo industriale e con la maggiore richiesta di prodotti, soprattutto tessili, i nuovi macchinari, i filatoi e i telai, diventavano sempre più grandi e diventavano sempre più robusti, venivano fatti in metallo. La loro diffusione potenziò il settore estrattivo e il settore siderurgico. Per le loro grandi dimensioni questi macchinari non potevano più essere collocati in piccoli ambienti, in case, in botteghe, ma nacquero delle vere e proprie fabbriche che solitamente sorgevano vicino ai fiumi, sia per sfruttare la forza motrice dell'acqua che per utilizzare il trasporto nei numerosi canali navigabili inglesi. In effetti successivamente la macchina a vapore venne adattata proprio, viene applicata proprio ai battelli a vapore. I battelli, spostandosi sui corsi d'acqua per il principio del galleggiamento di Archimede, appunto, potevano portare dei carichi molto pesanti, come erano il carbone e il ferro, per lunghi tratti in modo agile e veloce, sfruttando anche le correnti dei fiumi navigabili inglesi. Trasportano infatti il carbone dalle miniere agli impianti industriali, velocizzando così i trasporti. Si sviluppa quindi in Inghilterra una fitta rete di canali navigabili. Inoltre nel 1814 George Stephenson inventa la locomotiva a vapore. Nel 1825 effettua il primo trasporto di circa 40 km, un trasporto di carri e di carbone, nel nord-est dell'Inghilterra. Poi questa invenzione sarà ulteriormente migliorata. Ma perché la rivoluzione di industria tessile avviene proprio in Inghilterra? Cosa aveva di più l'Inghilterra rispetto agli altri paesi? L'Inghilterra aveva il predominio sulle colonie sia nel nord-america sia nel sud-est asiatico dove si coltivava il cotone. Quindi la materia prima per l'industria tessile arrivava in Inghilterra a bassissimo prezzo, quindi veniva lavorata e il profitto era massimo. Inoltre in Inghilterra c'erano molte miniere di ferro e di carbone necessarie per produrre le macchine e per alimentare le industrie. Il paese è inoltre ricco di corsi d'acqua e di canali artificiali. Questo oltre ai giorgimenti di carbone permetteva dei trasporti rapidi ed efficienti, oltre a sfruttare la forza delle acque per azionare le macchine. Anche dal punto di vista del commercio l'Inghilterra è del paese più potente, del paese egemone sulle rotte commerciali. Inoltre poteva smerciare al prezzo da lei stabilito i propri prodotti finiti nelle sue colonie. Vedremo nel capitolo della rivoluzione americana che proprio questo fu uno dei motivi che scatenò la rabbia delle colonie americane. Come veniva organizzata la produzione nel settore industriale? Al centro di tutto c'era la fabbrica dove venivano introdotte delle macchine automatiche per la produzione, c'era bisogno dell'impiego di un gran numero di operai perché queste macchine dovevano essere azionate ancora dalla mano dell'uomo e la crescita della produzione è diventata enorme, si è moltiplicata di smisura. E questo è il sistema capitalistico. La nuova economia si chiama capitalistica perché alla base di esso c'è il capitale e cioè il denaro investito dagli imprenditori ma anche i macchinari, gli edifici e le materie prime. Tutto questo è il capitale. Il proprietario investiva questo capitale per trarne un profitto, per arricchirsi. Le attività produttive che prima erano disperse nelle botteghe artigianali e nelle officine, nelle case private, si concentrano nelle fabbriche dove delle macchine più complesse e numerosi lavoratori possono garantire una crescita continua della produzione. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa rivoluzione industriale? La rivoluzione industriale fu un evento epocale in Europa perché per la prima volta cambiava la destinazione dell'economia europea da agricola a industriale appunto. Ma le nuove tecnologie, la diffusione delle fabbriche ebbero anche delle conseguenze negative. Vediamo quelle positive. Meccanizzazione della tessitura e crescente disponibilità dei beni di consumo anche per le classi inferiori. Le conseguenze negative erano lo sfruttamento del lavoro, il lavoro dei ragazzi, anche bambini, e la formazione dei quartieri operai che erano degli ambienti malsani e poco raccomandabili per abitarci. In questo periodo nasce anche il concetto di proletariato. Gli artigiani e contadini che prima lavoravano nelle campagne e nei villaggi si trasferiscono in città per avere un salario, trasformandosi in operai. Karl Marx, un filosofo ed economista di quest'epoca, chiama gli operai proletari perché l'unica loro ricchezza consisteva nella prole, nei figli, che poi mandavano a lavorare nelle fabbriche e quindi le garantivano un profitto. Da qui la definizione proletari. Come cambiano le città in questo periodo? La popolazione si concentra nelle città e la città diventa il fulcro economico del paese. Questo comporta molti problemi, soprattutto igienici, legati alla carenza di pulizia, di acquedotti, di fognature e di ospedali. A farne le spese furono i più poveri, tra cui gli operai, che vivevano in quartieri sovrappopolati, caseggiati malzani, a ridosso delle fabbriche, quindi inquinatissimi, e molto pericolosi. E' questa l'epoca in cui si ambienta il romanzo di Jack lo Squartatore o i romanzi di Charles Dickens. In effetti, in questo periodo, lo sfruttamento del lavoro colpì soprattutto le fasce più deboli, e cioè le donne e i bambini. La diffusione delle macchine semplificò il lavoro, quindi potevano essere utilizzati per il lavoro anche le donne e i bambini, potevano avere la stessa abilità lavorativa degli uomini. La differenza era che le donne e i bambini costavano di meno, quindi venivano preferiti. Gli operai, infatti, dovevano compiere pochi compiti ripetitivi e non era chiesta nessuna specializzazione. I bambini e le donne venivano molto richiesti soprattutto nell'industria tessile. I bambini lavoravano in condizioni durissime, senza alcuna protezione. Quando si ingarbugliava il cotone o si creava una matassa nei filatoi, venivano fatti infilare i bambini per sbrogliarla e spesso rimanevano stritolate in queste macchine. L'introduzione delle macchine, lo sfruttamento del lavoro, generò subito le prime proteste. La prima protesta in Inghilterra fu la protesta detta luddismo, dal nome del fantomatico operaio nel lud, fantomatico perché non si è sicuri della sua esistenza, può essere solo un mito costruito in questo periodo, che cominciò a distruggere le prime macchine, perché venivano viste come causa dei disagi degli operai. Ovviamente il governo inglese represse duramente questo movimento, perché l'introduzione dell'economia industriale conveniva molto al governo inglese. Perché ci sia la nascita dei primi sindacati, delle prime associazioni che difendono gli operai, bisogna aspettare la prima metà dell'Ottocento. Per il momento gli operai dovevano subire lo sfruttamento e arrendersi alla vittoria delle macchine. Con questo si conclude questo capitolo. Arrivederci.